bene ragazzi salve sono sempre Omex e nella lezione precedente forse abbiamo messo qualche piccolo particolare qualcuno potrebbe opinare ma questa non è tutta grafite per esempio questa parte relativa alla punta della mia matita cioè voglio dire questi sono passaggi che ormai penso che siano chiari a tutti insomma andiamo sempre al pannello modifica attiviamo le age selezioniamo la parte alta e creiamo una connessione mettiamoci nella parte qui in prospetto magari e la spostiamo un poco verso l'alto a creare una punta poi andiamo nei poligoni e questa parte alta della punta la possiamo selezionare anche da qui ok ricordatevi che seleziona con alto premuto deseleziona seleziona tutta l'area selezionata selezioniamo solo i poligoni della punta e scendiamo nel nostro stack e diciamo che questo è un id 4 non solo possiamo dare anche un poco la tipica forma di irregolarità a questa nostra matita magari no alla punta superiore per così dire bene adesso richiamoci sempre nel material editor e riprendiamo il nostro materiale tutto ciò che dobbiamo fare è aggiungere il quarto id lo trasportiamo materiale standard beh allora l'id 4 noi daremo un materiale tipo grafite ok e andremo a rettificare magari l'id 2 e daremo un materiale tipo non solo tipo legno di matita adesso se andiamo a vedere la visualizzazione a video vedete che abbiamo la classica punta la classica matita beh questa era soltanto la precisazione forse e per questa precisazione è tutto e vi rimando alla prossima lezione grazie a tutti